Oggi con una stampante termica e vari colori di ribbon andiamo a stampare su vari tipi di supporto. Abbiamo etichette, adesive e nastri in raso. Vi vogliamo mostrare come anche una tecnologia monocromatica sia la soluzione di stampa idealissima per personalizzare completamente brand. Puoi stampare qualsiasi stile di grafica. Guardate che belle queste etichette. Tiene di colore fino al bordo. Puoi stampare su nastri per decorare confezioni. Con i ribbon metallizzati, in questo caso vediamo l'argento, ma c'è anche l'oro, il rosso metal e il non metal. Puoi dare veramente grande spicco ai prodotti di lusso. E puoi stampare anche su etichette trasparenti. realizzare dei chiodi in busta. Qualsiasi sia il colore del tuo brand con una stampante termica, puoi avere tutto quello che ti serve in poco tempo e a poco prezzo.